Il commento chiedeva Lucia Monaco, ma velocissimo prima di passare all'ultimo giro con le neglette. Sì, volevo riprendere il tema che è stato riproposto da tutti, della necessità della diagnostica, che è un tema affrontato a livello globale per le malattie rare, al punto che recentissimamente, nel corso degli ultimi mesi, la comunità europea, d'accordo con gli NIH, quindi gli istituti di sanità statunitensi, hanno lanciato un'iniziativa che si chiama IRDIRC, è un bruttissimo acronimo per dire Consorzio Internazionale di Ricerca sulle Malattie Rare, che ha la finalità di portare, si è posta proprio come visione per il 2020, di portare a 200 terapie per malattie rare e a 6.000 test diagnostici per le malattie rare. E questa è un'iniziativa che coinvolge enti e organizzazioni che finanziano ricerca, con la finalità proprio di promuovere la sinergia negli sforzi e nelle strategie, per evitare sovrapposizione di finanziamenti e per promuovere il focalizzarsi su quelle aree di ricerca o di attività che sarebbero altrimenti trascurate. Io trovo che questo sia un esempio bellissimo di collaborazione globale, che permette veramente di ottimizzare gli investimenti e gli sforzi di ricerca per queste malattie. Teleton ha aderito a questo consorzio e siamo molto felici di poter indirizzare le nostre prossime iniziative di ricerca tenendo conto di quelle che sono le esigenze globali. Un'ultimissima cosa che riguarda il gender ratio. Teleton è molto rosa, l'ufficio scientifico che io dirigo è fatto da 12 persone, abbiamo due colleghi maschi, per il resto siamo donne che sopravvivono felicemente perché li coccoliamo. Ma al di là della battuta, quello che vorrei dire in risposta alla sollecitazione che ha fatto Adriana Albini questa mattina, le nostre statistiche di percentuale di successo ai nostri bandi donne verso uomini sono completamente paritarie. Cioè la percentuale rapportata alla percentuale di donne che ci presentano delle proposte di finanziamento rispetto agli uomini è assolutamente identica. E questo significa che quando si basano i criteri di valutazione sul merito non c'è maschio o femmina. Basta essere bravi. Grazie. Grazie.